Vabbè presto, visto che martedì rigiochiamo, penso che ancora abbiamo tanto da fare, sono contento oggi per il risultato, per la prestazione, per il pubblico che è venuto a aiutarci, sono contento per questo. Penso che ha dimostrato grande voglia di fare la partita, di lottare per vincere la partita e sono contento che ci siamo riusciti. Se un po' la conosciamo, Zeman, è addirittura un po' arrabbiato, irritito per qualche gol che poteva arrivare e magari chiudere il match prima? Vabbè, potrevo soffrire un po' meno alla fine, perché poi uno sta sempre per magari si sbaglia una palla, fanno gol, poi si va in confusione. Ma penso che il calcio è questo. Per me è da vivere pericolosamente, nel senso che noi dobbiamo cercare di recuperare la partita e quindi dobbiamo rischiare qualche cosa più del normale. Non se l'aspettava così il Torino? L'aspettavo così, loro giocano sempre, poi magari discorso che fanno tanto possesso, stancando l'avversario, sono contento che noi non ci siamo stancati e abbiamo lavorato fino alla fine. Senta, Zeman, è il primo posto? Non è la prima volta che siamo i primi, il problema è arrivarci a fine campionato e ripeto, abbiamo due partite e mezzo, io spero che continuiamo e che non ci rilassiamo su quello che abbiamo fatto finora. L'ammunizione di Romagnoli, l'aspetto negativo va in squalifica, ma prima o poi con le diffide? Succede, siamo a fine campionato e penso che ora tutte le squadre hanno problemi con il numero di ammunizioni.